... La media, la un'idea con il set, il preschio per il Milanti, con l'8.000 metri, grandi lievitati, sono scontorzi, il giocatore che è un premio di 41, per la marcia, il giocatore di Nostra, Don Dovalli con i 9, San Reino con i 10, Lucio con l'unice in settimana, 4, 2, 2, 2, 1, 4, 4, 7, Milanti e Sereni, le squadre sono andando in campo in lenti giorni, Maglia Piacolo con il Parma, nella tradizionale Maglia con la crociata, splendida la tonografia di Tifosi del Panna che abbiamo proprio di fronte